Emanuele Ma se Emanuele è morto e tra mezz'ora dobbiamo andare in sera, chi lo sostituisce? Emanuele come sta? Emanuele è morto! Sono venuto nel 2010 e ci voglio andare Ma come cazzo lo diamo insieme noi? Potrei sostituirlo io allora? Innanzi tutto, non ero ancora E non penso che conosca memoria tutte le battute Chi sostituisce? Il fonico? Lo farò io? D'accordo, allora faremo queste sostituzioni Io sarò il fonico e tu Cristiano che stasera intriprenderai la parte di Emanuele Va a metterti il vestito Sono pronto! Merde! 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 Traccia 1 Ma che sei scelto? Luce, posizione 3 Possiamo procedere? Ah si Signor 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 E quel procede siamo venuto Jo Aspetta! Forse non dovremmo stare vicini! Hai ragione! Faccia attenzione che è buio! Ben! 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 Chi è l'essasino? Nessù! coatdko Persona Cosua Ciao